Purtroppo ancora in certe occasioni non siamo abbastanza mature per gestire la palla. Dovevamo stare lì, prendere il fallo fino alla fine, invece abbiamo voluto a tutti i costi andare dentro e fare gol e loro hanno esperienza e è andata così. Comunque pazienza, la partita penso che l'abbiamo giocata molto bene, siamo state più calapari con loro, poi gli episodi sono quelli insomma.